Ditelo con un fiore? No, mangiatelo con un fiore. Potremmo riassumere così la puntata di oggi che ci ha portato a Mira, provincia di Venezia, a due passi da quel luogo splendido ricchissimo di biodiversità che è la Laguna Veneta. Siamo venuti qui per conoscere un'azienda che è tra i maggiori player italiani per quanto riguarda gli ortaggi di quarta gamma, ma primo produttore d'Europa di fiori eduli, ovvero fiori commestibili. È l'insalata dell'orto, un'azienda che è alla terza generazione, che è guidata da tre donne, che sono Cinzia Raffaella Busana, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale, e Sara Menin, project manager e oggi nostra guida, nostro Cicerone. Io dicevo, fiori commestibili, un mondo poco conosciuto e affascinante. Prima di anche se già siamo circondate in mezzo, due parole su quella che è la realtà aziendale, perché i fiori sono arrivati otto anni fa, le radici dell'azienda sono quelle del mondo orticolo, quarta gamma, trasformazione. Oggi questa è la sede aziendale, ma le aziende sono tante in diverse parti d'Italia e poi c'è anche la trasformazione. Assolutamente sì, le aziende agricole sono 17 in questo momento, facendo parte tutte di Opila Maggiolina, dislocate nel territorio campano, zona avvocata per le produzioni della baby leaf, in Veneto dove siamo e in Lombardia, altra zona particolarmente avvocata sempre per le baby leaf. L'insalata dell'orto nasce circa nel 2000, e quindi 24 anni fa. Prima l'azienda era un'azienda agricola, la trasformazione veniva fatta in maniera molto più artigianale rispetto che ad oggi. Nel 2000 è stato deciso di implementare quella che era la produzione delle orticole del territorio delle baby leaf, appunto con l'insalata dell'orto che ha iniziato il suo percorso di trasformazione. L'insalata dell'orto, come hai detto prima, è un'azienda che trasforma in quarta gamma, quindi noi facciamo verdure pronte al consumo, serviamo la grande distribuzione italiana ed estera. L'anno scorso l'insalata dell'orto ha chiuso con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, esportiamo oltre il 60% del nostro prodotto all'estero, quindi siamo tra i partner scelti dei più importanti retailer europei e anche in Italia abbiamo importanti realtà della GDO che ci hanno scelto come loro produttori a marchio, quindi il 70% circa del nostro prodotto che si trova in grande distribuzione è a marchio del distributore, quindi non a marchio di insalata dell'orto. Come anticipavi prima, circa dieci anni fa abbiamo deciso di andare a convertire 35 mila metri di serre dove siamo dentro oggi, che prima erano destinate alla produzione di lattughini ruccole valeriana, oggi solo produzione di fiori commestibili. Diciamo che il contatto con il fiore Luigi Busana, che è il papà di Cinzia Raffaella, quindi la prima generazione, lo aveva avuto già negli anni 70 perché era un rinomato produttore di rose della zona di Venezia, poi ha abbandonato l'ortoflorovivaismo per dedicarsi agli ortaggi e dieci anni fa ha deciso di voler tornare al suo primo amore, non più però destinato all'ortoflorovivaismo ma solo al mondo della cucina. In questo momento abbiamo giù a dimora circa 16 varietà e 40 cromie disponibili per tutto quello che è il mondo oreca, che in questo momento è il nostro principale cliente. Siamo in grado di fornire addirittura 10.000 fiori in un'unica varietà colore se c'è la richiesta per cui si possono anche organizzare eventi particolari e quindi sono aperti tutta una serie di canali che chiaramente l'esperienza di ormai dieci anni ci consente di affrontare. Tu hai fatto una precisazione che è fondamentale, non è ortoflorovivaismo, sono fiori da mangiare e detta così noi in realtà siamo circondati da fiori che magari in tanti abbiamo in giardino o in terrazza o che possiamo acquistare al garden, però sono due mondi dal punto di vista della produzione completamente diversi che devono essere tenuti distinti. Assolutamente sì ed è nostro primo obiettivo aziendale, è proprio arrivare a comunicare questo. Il fiore di per sé, il seme del fiore, circa il 90% dei fiori e delle varietà sono commestibili, il loro seme. Poi nel momento in cui il seme viene trapiantato, da quel momento alla produzione della pianta e del fiore stesso passano circa 90 giorni. In questi 90 giorni sono possibili due strade, entrambe corrette, entrambe valide ma con due destini molto diversi. La prima è quella dell'ortoflorovivaismo dove chiaramente per un fiore che fa decorazione nelle nostre case, nelle nostre ruole, possono essere utilizzati tutta una serie di prodotti che d'altro canto non sono però adatti al consumo umano. Da circa quattro mesi sono stati individuati dei prodotti specifici per il fiore commestibile. Prima utilizzavamo solo prodotti destinati alle erbe aromatiche a foglia, ma comunque sempre possibili per il consumo umano, che è la caratteristica fondamentale che devono avere. Oltretutto noi, visto che il nostro mestiere è fare fiori per il mondo della ristorazione, andiamo ad fare tutto un programma di analisi, sia multiresiduale che fitosanitarie, che ci consentono di dichiarare un fiore pulito da qualsiasi presenza di pesticidi o di qualsiasi altra sostanza chimica non adatta al consumo umano. Voi, per quanto riguarda il mondo orticole, avete il 60-70% di produzione in biologico. Per i fiori si può parlare di biologico o no? Allora, per i fiori sì, assolutamente si può parlare di biologico, perché come qualsiasi altro prodotto della terra, se coltivato a terra su un'azienda certificata bio, quindi con il terreno che è andato in conversione e che ha la certificazione biologica, anche quel fiore è biologico. Nel nostro caso non si può parlare di bio, perché come vedete i fiori sono tutti coltivati fuori suolo, questo consente che in Italia la legislazione non prevede la possibilità della dichiarazione biologica. Abbiamo deciso di coltivarli fuori suolo per due motivi fondamentali. Il primo è agevolare la raccolta a mano dei nostri operatori, noi raccogliamo circa 100.000 fiori al giorno e quindi un numero molto importante e abbiamo da subito voluto che anche i nostri operatori potessero raccogliere in una condizione, non dico di comfort, ma quasi. Il secondo, andiamo a mettere dei substrati all'interno dei binso o dei pianali che vedete, che ci consentono un controllo più preciso del terreno su cui questo fiore si nutre e cresce. Tutto ovviamente viene fatto in serra e condizioni climatiche quindi controllate sempre. Sì, allora le serre sono fertirigate, abbiamo deciso di fertirigarle dal basso in modo tale che il gocciolamento dall'alto non vada a rovinare il petalo e il fiore. Sono riscaldate durante il periodo invernale attraverso delle caldaie che consentono di mantenere una temperatura che non va mai sotto i 4-5 gradi. Durante l'estate invece sono ombreggiate perché il caldo e il sole tendono a scottare i petali dei fiori. Ci facciamo aiutare da degli insetti antagonisti per andare un po' a coprire e a tutelarci dal mondo parassita che chiaramente durante il periodo estivo soprattutto attacca i nostri fiori e andiamo ad utilizzare solo quei prodotti che ci consentono un minimo di protezione dagli insetti stessi. Tu hai detto la raccolta, la raccolta a mano, quindi c'è una componente altissima di mano d'opera perché anche il trapianto, vediamo anche delle piantine appena messe, anche il trapianto viene fatto a mano. Ma del fiore che cosa si raccoglie? Dipende da fiore a fiore, specie a specie? Allora del fiore fondamentale sempre per non creare stress alla pianta è andarlo a recidere appena sotto il calice. In questo modo il fiore diciamo perde quello che è il suo frutto perché il fiore per la pianta è il suo frutto e si ricarica per generarne uno l'indomani. Se invece andiamo a togliere parte dello stelo anche del fiore la pianta è come andassimo a togliergli un po' un braccio e quindi si sente più appesantita ed è più debole. Quindi reciso sempre sotto calice attraverso un movimento delle mani molto preciso e molto delicato. Una volta reciso viene confezionato nell'arco di 4-5 ore all'interno di vaschette, vaschette che sono brevettate e creano un microclima che consente una shelf life intorno ai 14 giorni per il fiore stesso. Tutti i processi che vengono fatti a mano perché anche il confezionamento viene preso, il singolo fiore raccolto messo singolarmente dentro la vaschetta. Buona parte viaggia per il mercato del fresco e quindi va negli orto mercati nazionali e poi viene ad acquistato da tutti i distributori del mondo Erika. Altra parte va invece nei nostri disidratatori. Da circa due anni e mezzo abbiamo iniziato questo nuovo processo da un lato per garantire il soddisfacimento e la raccolta di tutti i fiori presenti in serra perché anche lasciare i fiori troppo tempo nella pianta crea stress per la pianta stessa. Però chiaramente soprattutto in questo momento la quantità di fiori è veramente importante e allora quota a parte andiamo a disidratarla. Abbiamo scelto un processo molto delicato nel senso che disidratiamo e non essicchiamo quindi lavoriamo sotto i 40 gradi. Manteniamo colore e forma del fiore per cui è identificabile una viola piuttosto che una bocca di leone piuttosto che una begonia riduciamo del 92 per cento la presenza di acqua nel fiore residuando un'attività inferiore al 3 per cento. Questo vuol dire che abbiamo una perdita di peso assurda però andiamo a concentrare uno a dieci circa tutti i valori anche organolettici dei fiori stessi perché ne tendiamo sempre a parlare poco per scelta ma comunque è importante iniziare a dire che i fiori a tutti gli effetti hanno le caratteristiche di un superfood. Poi non si mangiano 100 grammi di fiori perché sono veramente tanti ma iniziare a sperimentare un percorso sensoriale in cucina con i fiori oltre che un'esperienza bellissima fa anche bene. Bene Sara allora adesso ci fermiamo un attimo una breve pausa e poi da Mira ci ritroviamo